Ciao, sono Beba e risponderò alle questions. Tre cose che non possono assolutamente mancare alla tipica serata con Beba. Eh, cavolo, se me l'avessi chiesto due mesi fa ti avrei detto gin, che ultimamente le mie serate sono più che altro Netflix, CBD e un bicchiere di vino rosso. La cosa più strana che hai mai comprato? L'altro giorno ho comprato il coso che toglie i perucchi dai maioni e credo che sia l'acquisto migliore della mia vita. È divertentissimo. Santa Giulia o San Salvario? Quale scegli per la serata perfetta? Allora, dipende. Santa Giulia perché trovi parcheggio. San Salvario non troverai mai parcheggio se è venerdì o sabato, però... Eh, forse... Santa Giulia. Qual è l'ingrediente segreto del tamango? I acidi. Sì, sì. Il consiglio di Beba per rimorchiare? Io consiglio sempre di essere se stessi. Lo so che sembra banale, però è sempre vincente. Sempre. Anche se devi dire una strottata è meglio dirla a tuo modo, insomma. Meglio un feat con Morgan o con Google? Morgan, ma io amo Morgan da sempre. Per me è geniale. È pazzo, è geniale. In palestra ci vai con Vintisello The Rock? Allora, io lo so chi sia The Rock. Che dobbiamo fare? Non sappiamo se dirlo perché è grave. Chi è? È geniale risposta in seriale. Vintisello. Fai un appello ai tuoi haters. Tutto bene? Che cosa tatueresti a Salvini? Cosa tatuerei a Salvini? Cosa si fa pensare che io sappia tatuare? Cosa si fa pensare che io sappia tatuare? Cosa si fa pensare che chiedi a Salvini?